Pronto? Ehi, Francesco! Pinuccio sono! Indovina dove sto? A Biceglie sto, eh, a Benevento, a Biceglie. Ma dove stai che esiste un rumore? Soppa l'F3-3-C. Hai visto? E che stai a fare là? Stai a spendere gli incendi. Oh, Francesco, ma stai bene? Ah, non ti vuoi ritirare a casco la scusa? Senti, che fai, parti in guerra? Obama mi ha detto, voi avete qualcuno da mandare con gli aerei? E io ho detto, boccia! Allora andiamo... Mi raccomando, hai visto che non sono elicotri? Che tu dicevi, elicotri a spendere gli incendi. Vabbè, tanto qua la Biceglie non capiscono. L'hanno preso tutto per buono. Senti, ma allora hai visto l'Imu? L'hanno tolta. Bellissimo, eh, bellissimo. Silvio ha tolto l'Imu e il PD ha messo le tasse. E siete degli strateghi proprio. Siete bravissimi. Avete fatto un favore a loro e avete perso i voti voi. Bravo, bravo. Tu hai letta proprio. Ve le studiate la notte le cose. Sì, sì. Senti, ma altre tasse dovete togliere? No, per sapere che mi stavo preoccupando. Che ho capito che qua da una parte ce la togliete e dall'altra ce la mettete. La tassa. La tassa. Liva, modon, senti un rene ciò, Francesco. Vedete voi che cosa dovete fare. Mi raccomando, mi raccomando. Meh, meh, va bene. Meh, ti saluto. Salutami a tua moglie che è veramente elegantissima di una finezza incredibile. Veramente. Se puoi non ti far rientrare a casca chiuso, vieni a dormire da me. Non ti preoccupare. Meh, mi raccomando a fare con quello del centro-destra, eh. La filosofia. Il pelo. Va bene. Ciao, beh. Salutami a Ginefra, quell'altro che ti porti a presto, quel bambacione che si finanzia con la ravetto. Ciao, bello, ciao. Grazie. Grazie.